In questo ultimo periodo sono devastato dai commenti perché purtroppo la questione smart working, truffa dello smart working sta davvero spopolando infatti nell'ultimo periodo se voi andate qui sopra a cliccare troverete il video relativo a Temo mi ha truffato quindi se volete sostenere questo canale io utilizzerò le donazioni in modo da poter scovare più truffe possibili e poter concentrarmi su questo canale quindi se volete potete cliccare qui sopra e troverete tutti i dettagli ma andiamo avanti con il video truffato ma in realtà non è Temo che mi ha truffato sono dei truffatori che si spacciano per Temo oppure ci sono lo stesso genere di truffe legati a booking, legati a ebay e altri tipi di piattaforme perché loro ti inducono a pensare che sia la piattaforma conosciuta perché già psicologicamente sapendo che sia booking, che sia ebay, che sia Temo, che sia qualsiasi altra piattaforma sia sicura ma invece no perché questi qua vogliono solo i vostri soldi cioè voi volete guadagnare ma loro vogliono i vostri soldi e ti dicono che avrai tanti guadagni ma per sbloccarli dovrai pagare quindi non ha senso ma di fatti se voi ci pensate chi è che vi chiede i soldi per lavorare? sì potreste dire gli investitori investire una somma su cui guadagnare sulle loro azioni, sul loro investimento, sulla loro valuta ma qui si parla semplicemente di dare dei consensi, dei mi piace a delle piattaforme e guadagnare 100 euro al giorno ma chi vi dà questi soldi? qualcuno mi ha detto a chi credere? a te o a loro? perché loro mi hanno detto che tu lavori per loro come faccio a lavorare per loro se mi sto facendo questo video? che sono loro che guadagnano non io ma se voi andate nel video precedente nei commenti vedrete quante persone sono state truffate ed è molto davvero una cosa sconcertante vedere quante persone hanno purtroppo dato i loro soldi a questi infami quindi se voi con una semplice ricerca andate a cercare su google truffa smart working troverete l'unico mio video che è stato caricato in rete è l'unico video io infatti sto facendo questa campagna di sensibilizzazione alle truffe perché il lavoro smart working vorrebbero tanti poterlo avere concettualmente è una cosa bella poter lavorare da casa realizzare il proprio sogno e tanti lo stanno cercando però dovete stare attenti perché la gente, i truffatori lavorano su questa psicologia sul fattore che le persone vogliono lavorare da casa in questo momento quindi qual è il modo migliore per questi truffatori per poter indurre le persone a essere truffate? creare dei siti altamente professionali e vi contattano tramite whatsapp infatti se voi vi vedete qui c'è un'immagine questo qui mi stanno chiedendo di dare recensioni a booking infatti questo video uscirà la prossima settimana perché con voi andrò a contattare queste persone e vedere cosa mi offrono e quanto mi chiedono sono davvero curioso questo si spacciano per booking quindi sarà molto curioso vedere questo se volete accendete la campanella qui sotto dove ci sono i mi piace mi piace, non mi piace, campanella accendete la campanella perché se voi avete la notifica potrete vedere questo video che uscirà e anche i prossimi perché sono molto importanti farò altri aggiornamenti quindi mi raccomando sostenetemi se volete contribuire alla crescita di questo canale per poter trovare altre truffe se volete potete fare una piccola donazione qui sopra io utilizzerò questi soldi per poter scovare più truffe e poter concentrarmi di più su questa cosa quindi mi raccomando lasciate un mi piace iscrivetevi al canale accendete la campanella sempre le solite cose quindi rimanete sintonizzati ci vediamo al prossimo video ciao ciao